Mr. Winter! L'ho trovato finalmente! Lo sto cercando da tantissimo tempo! Eccolo qui con i suoi... Mi sono anche pupazzi di neve! Eccolo qui con i suoi amichetti! Guardate! Non sa che qualcuno li sta spiando, li sta osservando! Ma a chi diavolo sta guardando il signor Winter? Sta guardando di là in silenzio e in solitaria? Noi ci avviciniamo perché il nostro piano di oggi è quello di pedinare e spiare... Ma... Oh mio Dio saluta! Oddio non lo sapevo questa roba! Ma ci ha visto? Forse ci... Non credo ci abbia visto anche se insomma non è che siamo tantissimo lontani Ma mi sa che questo Babbo Natale è un po' ciecato o lo è? Non ci possiamo avvicinare tantissimo altrimenti ci vedono I tizi si stanno affacciando e stanno regalando dei dolciumi Vabbè lo sappiamo bene! Le conosciamo bene quelle rennine malefiche! Occhio vediamo che cosa combinano! Bello beffardo il signor... Occhio al cinghiale! Occhio al cinghiale! Signora Renna! Occhio al cinghiale! Vediamo! Ma ci ha accado! E non si è fermato in tempo! Si è fermato in tempo! Fermi! E il cinghiale passa! Oddio! Hanno fatto passare il cinghiale E vediamo... Non ci guarda... Gli stanno... Gli stanno suonando! Ma gli hanno... No non ci posso credere! Gli hanno suonato il claxon al cinghiale e il cinghiale si è mosso! Eh... Signor cinghiale! Lei è stato fortunato con loro! Ma non credo che lo sarà! Ah! Che diavolo! Oh mio! Ma perché hanno smossato? Totalmente a caso hanno utilizzato il nostro! Dobbiamo scoprire tutti i segreti di quel camion! Sento la musichina e eccolo qua! Infatti è qua davanti a noi! Ci sono altri cinghiali! Ok! Pure il sargente mi sembra molto cattivo! Ha in mano il fucile! Cosa diavolo? Ogni tanto si impazzisce! Ogni tanto è buono e saluta! E ogni tanto diventa top aggressive! Io direi iniziamo subito con il nostro piano e il nostro esperimento! Infatti vorrei mettere delle barriere sulla strada del camion! E vediamo cosa succede! Se riusciamo a trovare delle barriere collassate sarebbe il top! Però va bene! Se non ce l'abbiamo mi limito anche a mettere del semplice metallo che non abbiamo! Del semplice mattoni! E no! La granata congelante però possiamo provarla addosso al sergente e vedere cosa succede! Ok! Ci dobbiamo sbrigare! Oh! Non devo morire! Non devo morire! Non prendere danno! Ok! Molto molto bene! Ok! Ci siamo! Ci siamo! Ci siamo! Abbiamo preso un netto vantaggio su di loro! Io direi iniziamo a fare... Prima di fare una sky base! Prima di fare una sky base! Vediamo se sale! Vediamo se sale! Andiamo! 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 Ci dobbiamo assolutamente sbrigare! Stanno venendo di qua! Sì! È lui vero? È lui? Signor! Sì sì è lui al 100%! Ok! Perfetto! 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 Andiamo con la sky base e vediamo se sale ufficialmente lo facciamo andare! Lo facciamo arrivare sulla luna! Noi però dobbiamo scendere senza morire! Ok! Ci dobbiamo sbrigare! Scendi 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 scendi! Non ci dobbiamo far vedere! Ma dov'è? Oh no! Oh eccola! Eccolo che arriva! Eccolo che arriva! Ok! Ci nascondiamo! Noi andiamo là sopra! Avanzate! Avanzate pure signorini! Occhio che ci siamo! Attenzione! Stanno sparando di qua! Oh mio Dio! Non mi dire che ci sono playerini! Ok! Sono laggiù! Stanno fai dando tra di loro! Bravi! Bravi! Vada! Vada camioncino! Vada! Salve! Oh! Sta utilizzando il caxon! Ok! Vediamo! Vediamo cosa succede! Il sargente non si accorge di niente! Eh? No! No! Ma che... Ah! Oddio! L'autista spara! Ma l'autista spara mentre sta guidando! Ma come ciavole è possibile! Oh no! Ma mi hanno beccato! Mi hanno beccato! Eh no! Ma forse mi hanno beccato! Va bene! Non fa niente! Non fa niente! Non fa niente! Tanto voleva aprire questo regalo! Vediamo che cosa c'è di... Ma come il carbone! Ma mi aspettavo! Ma mi stanno trollando! Mi stanno trollando loro! Non ci posso credere! Si sono accorti che stiamo facendo gli esperimenti su di loro! Ok! Ma non cresce qui! Ora li dobbiamo ritrovare! Perché voglio vedere che cosa succede se lasciamo un'arma per terra! Se magari le guardie scendono a raccoglierla! Potrebbe essere una cosa fattibile questa! Dobbiamo tagliare la strada assolutamente come al solito! Ok! Il sargente si è accorto di noi! Il sargente si è accorto di noi! Infatti gli sta guardando si è accorto si è accorto si è accorto! Però non si deve accorgere che saremo noi a lasciare l'arma! Faremo come se... Boh! C'è un'arma in mezzo alla strada e non si sa insomma chi l'ha lasciata! Ok! Loro dovrebbero passare qua davanti! Noi abbiamo tagliato tantissimo la strada! Ok! C'è la tempesta maledizione! Anzi meglio! Vediamo anche cosa succede con la tempesta quando loro entrano all'interno della tempesta! Quella è la nostra sky base si! Oh no! E' partita la tempesta maledizione! Dove diavolo siete? Ragazzi! Ok! Ok! Lasciamo un'arma! Lasciamo qui un'arma! Porca la miseria! La safe è dall'altra parte della mappa! Maledizione! Sargenti sbrigatevi ad arrivare! Ok! Vediamo ufficialmente cosa diavolo succede! Quindi devo prendere la macchina perché dopo dobbiamo scappare velocissimamente! Ok! C'è un'arma! Ma come? Ma non l'hanno nemmeno guardata! Però se lancio questa granata al sargente vediamo se succede qualcosa! Se lo congeliamo! No? Ma? Vi voglio congelare! Ragazzi! Ma non è effetto la granata su di loro! Sono impassibili all'interno della tempesta! Beati voi! Ma io me ne devo scappare insieme! No! Non faremo mai in tempo! Non faremo mai in tempo! È velocissima questa tempesta! Noi abbiamo solamente 50 attività! Ti prego macchina! Oh mio Dio! La safe è qua vicina! La safe è qua vicina! Andiamo 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 andiamo! Sono che ci dobbiamo! No! Porca la miseriaccia! Non ci voleva! Ok! Fermi! Ragnatelli di Spider-Man ci siete? No! Non lo so! Non lo so! Non lo so! E amici miei mi raccomando per supportarmi al massimo all'interno dei cazzo oggetti il codice più fresco del centro Italia! R4 SCO! Manca così po' che ci siamo! Manca così po'! Oh! Buoni! 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 Buonissimi! Ok! Molto molto buono! Molto! No! No! Porca la miseria! Va bene! Abbiamo ripreso! Stanno sparando qui sulla sinistra! Stanno sparando qui sulla sinistra! Oh mio Dio! Ma tutte ora devono succedere! Li hanno mega buildato! C'è un tizio all'interno dell'acqua che sta... Ma questo... Oh! Fermi! Ho sentito! Ok! Super potere di Spider-Man! È un cavolo di fabio! No! No! Porca la miseria! Questo è un fight che dovevo evitare di fare! Questo è un fight che dovevo evitare assolutissimamente di fare! Noi facciamo finta di niente! Fabio non ti ho sparato! No! No! Bravo Fabio! Spara là dietro! Oh! Porca la miseria! Ma stanno sparando anche da quest'altra parte! Maledizione! Siamo circondati! Ok! 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 Andatevi! Andatevi! Sì! Bravi! Non lutano nemmeno! Non... Ah! Ecco! Ecco! È tornato dietro! No! Non ho capito che... Gli stanno sparando altri! Stanno fai dando contro... Ma contro chi dia? Ok! Io vado a lutare! Io vado a lutare! Sbrighiamoci! Dobbiamo svescitare assolutissimamente! Ma c'è! C'è una marea di roba ora! Ma non hanno... Non hanno preso niente! Ma questi... Oh! Scherzo! 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 Non siete dei faggiani ragazzi! Scherzo! Sto scherzando ovviamente! Eh... Ok! Ok! Non è una buona situazione questa per noi! E là! Simpaticone! Buonanotte a lei! Vediamo questo che già ho la campina! Oh mio Dio! Ma sono degli scarzoni! Sono degli scarzoni official! Non sottotitiamo! Oh! Meno male! Abbiamo incontrato degli scarzoni! Guardalo qui questo furbacchione! Salve! No! Fermo col cecchino! Fermo col cecchino! Siamo uguali! No! Ok! Buonanotte! Oh mio Dio! Buonanotte al giapponese! L'abbiamo Uberkillato! Guardalo lì il bruchetto che è in saltella! E se ti pesco! Ok! Abbiamo sparato sulle chiappe! Abbiamo sparato sulle chiappe! E questo ci basta! Hanno aperto un airtroppo qua davanti però! Occhio! Mi fate prendere colpi eh ragazzi! No! No! Troppi cespugli qua! Troppi troppi cespugli! Io faccio una... Eccolo! Infatti qui ci sono i resti dell'airdrop! Eccolo! Era fatto di prima! Era... Buonanotte le Fabio on! Buonanotte le Fabio on! Era il fabietto di prima! Lo chiediamo! Così almeno siamo tranquilli! Dobbiamo stare attenti perché molto probabilmente il suo amico viene a reclamare il suo loot! O prende la testa! Va bene che tanto la testa non gli servirebbe! Guarda questa è la roba che c'aveva! Oddio! Oddio che è paura! No 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 no! Stai calmo! Stai calmo! No no! Porca la miseria quanto mi ha spaventato! Era proprio qui il viscido! Era vicino a noi! Occhio! Stanno sparando! Vogliono buttare giù tutto! Noi ci colleghiamo così! Almeno siamo belli tranquilli! Cinghiale! Non mi fare gli scherzetti tu! Oh oh oh! Sale 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 sale! Ok! E qua sotto! Apri! 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 E apri! Maledetto! Guarda! L'espermo lì! Oh se è bianco! Ma allora ti andrà a prendere cucciolino! E' inutile che fai così! E' inutile che fai così! Ti sto per venire a prendere! Ah ma questa è roba mia! Eh anche... Vediamolo eh! Ok! Fermo! Fermo! Ok! Buonanotte! Mi spavamo da sotto! Oh buono buono buono! L'abbiamo chillato! Molto molto buono! Dobbiamo stare uber assenti ai tizi! Eccoli infatti! I tizi ci stavano! C'hanno pure il cecchino! No! Prendi l'arma viola! Ok! Buono buono buono! Cecchino anche per noi! Loro non sospetteranno mai che gli spariamo da qui! Vediamo se ci riesce la cecchinata! Nel sogno! Oh! 45! Ok l'abbiamo chillato! Porca la miseria ho sbagliato l'arma! Ah ma è l'ultimo team! È l'ultimo team! Occhio! Allora lui scende sicuramente l'amico è là dietro! Eh ti sparo sulle chiappe! Mamma mia! Se lo resta! Fermi! Che se lo resta è il top! Se lo resta è il top! Fermi 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 fermi! Sì 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 sì! Dov'è? Dov'è lui? Ah già lo chillo! Lo chillo! Ok! Sicuramente il suo amico è là dietro! Sicuro al 100% del suo amico è là dietro! Devi uscire! Ok! Perfetto! Alla schiena di playstation! Quindi gioco con il pad! Occhio! Signorino! Signorino vuoi uscire fuori! Della butto giù questa roccia! Non ho problemi! Oh! Eccolo! No 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 no! Fermo fermo fermo! Fermo! Non provare! Non ti sfido con il pompa! Ti sfido da lontano! Occhio! Occhio! Non andare su! Non andare su! Ok! Bravo! Fermo lì! Fermo lì! Molto molto! Che diavolo vuole fare? Porca la miseria! Non abbiamo l'arma con cui possiamo sparare! Ok! Andiamo andiamo andiamo! È il momento di andare! Io direi sfammiamo un bel po'! Lui è qua dietro! Vieni fuori dai! Signorino! Ehi là! Ci stavo aspettando fermo immobile! Questa è la nostra preda! Questo è il nostro momento di agire! Oh mio Dio! Dove diavolo è andato il vigliacco? Dove diavolo sei? Io tanto non scendo! Io non scendo a sfidarti con il pump! Mi basta la mitraglietta! Mi basta la mitraglietta! Ok! 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 One hit! E ora è il momento del nostro pump! Buonanotte! Let's go! Ci siamo portati a casa questa win spettacolare! Mi raccomando! All'interno dei cazzo oggetti il codice più fresco del centro Italia! R4 Skull! Iscrivetevi al canale! Attivate la campagna delle notifiche! E vi ho fatto un bel like furbetto! Se ancora non l'avete fatto! Ora vi lascio due video bomba! Tanti posto schermo! Quindi mi raccomando! Andateli a vedere! Vi ci vediamo prestissimo! Con tante altre news! E... Le strada! Vi ci vediamo!